Primo impegno seppure in un clima di preparazione precampionato per la nuova nissa di Alessandro Settineri. Mercoledì prossimo la squadra biancoscudata affronterà il Geraci in un allenamento congiunto a Petralia Soprana. Sarà l'occasione per vedere all'opera tutti i giocatori disponibili e per valutare eventuali correttivi. Non solo pratica, anche lezioni teoriche da parte di Settineri e i giocatori con lo sguardo attento dimostrano notevole interesse sui temi proposti, come testimoniano queste foto diffuse dalla pagina Facebook della Nissa. Già prima di Ferragosto il volto della nuova Nissa potrebbe essere già definito anche se la dirigenza sta guardando con attenzione a ciò che propone il panorama dei giocatori attualmente liberi, tenendo presente sempre il budget di spesa a disposizione. Sul caso Kwame, passato al Manduria, interviene la società pugliese che dalla propria pagina social intende fare una doverosa puntualizzazione, con in testa il presidente Giuseppe Vinci. Nel post si legge, probabilmente presi dal fermento e dagli impegni dovuti a questa non semplice fase di programmazione, abbiamo dimenticato di ringraziare la società Nissa FC per la fattiva collaborazione, senza la quale sarebbe stato impossibile portare a termine il trasferimento del calciatore ivoriano. Con la società Nissena condividiamo la stessa categoria e probabilmente le stesse ambizioni per la stagione 2022-2023. L'ospicio è, perché no, di incontrarsi un giorno e, se ciò accadrà, vorrà dire che sia il Manduria sia la Nissa avranno raggiunto un grande obiettivo. Per il momento è importante per noi manifestare gratitudine nei confronti del presidente Sergio Iacona e di tutto lo staff nisseno, anche se in colpevole ritardo, certi che i dirigenti biancoscudati potranno scusarci per la nostra mancanza. Intanto cresce l'attesa dei sostenitori biancoscudati, che sperano in una formazione fortemente competitiva, capace di proporsi tra le squadre in grado di lottare per la vittoria finale. E in tale contesto si attendono i primi numeri della campagna abbonamenti per comprendere il reale grado di coinvolgimento della tifoseria.